baglioli sei campione d'italia e non mi dire che non te lo meriti ma ce lo meritiamo tutti quando pensi di aver vinto questo scudetto ma ci sono stati tanti momenti però penso che il momento più ci siamo resi conto di averlo vinto è stato torino con la juventus senti perché il verona ha vinto il campionale d'italia ma forse perché perché ecco che arrivano i tuoi ragazzi guarda faiore che sapore ha lo scudetto con l'abbrezzo ma penso che sia un qualcosa che uno sente dentro diciamo un'avventura di un anno che viene 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 consacrata in questi momenti qua a questo punto dici sempre che te l'aspettavi ma quando hai avuto questo fisco di finale penso che sia stata una liberazione ma più che altro sono 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 questi queste attestazioni qua che 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 prendono magari dentro di noi insomma senti il discorso del futuro non vogliamo fare ma il verona è una realtà cioè l'hai cresciuta dentro è una squadra fortissima ma tu eri convinto che potesse farcela no direi che questi non era il programma dall'inizio sicuramente no a un certo punto ci abbiamo creduto certo a l'unico in italia a l'unico in italia